Ho sempre amato il palazzo da quando ho appreso della sua esistenza. Venni qui la prima volta fra l'altro non con l'università, ma per un'esperienza di post opera teatrale, credo di Shakespeare. Poi man mano, girando per le stanze, mi sono innamorata e poi ho avuto l'occasione con l'università di fare i cantieri. Quindi iniziano a fare i cantieri sia del restauro del soffitto di questo salone che poi del pavimento e venendo sempre la buona serie, spinta anche dalla mia relatrice, ho deciso di fare la tesi qui. Al momento ho fatto una prima fase conoscitiva da sola, per cui ho osservato il manufatto, ho definito delle mappature in cui riporto delle osservazioni in base ai fenomeni di degrado, allo stato di conservazione e alla tecnica. Dalla settimana prossima inizio la fase di analisi con gli altri relatori. In base a ciò poi inizio l'intervento. Poi ho anche iniziato a sfogliare la bibliografia e ho trovato un sacco di manuali che venivano destinati a muratori magari o artigiani. degli album dei pavimenti, decorati, bellissimi, in cui si vedevano tutte le possibilità di scelta come catalogo. Non vedo troppo di addentrarmi di più proprio perché mi interessa. Grazie a tutti.